sulle mani ragazzi facciamo più veloce l'urlo una Fischio e a vedere la Fischio e vedi a vedere la Fischio che si è iniziata non è un'esplosione che si è iniziata non è mai un'esplosione bene ma è una Fischio ma è una Fischio che si è iniziata iniziata Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.